Ecco, signor Natra, abbiamo cominciato da Silvia Abba e siamo arrivati a Zuzu, Silvia Zuzu, 93010461, ecco. Ma sei sicuro che la sanguissuga si chiami Silvia? Ma certamente, si chiama Silvia! Qui è pieno di Silvia, Monte Carlo non doveva chiamarsi Monte Carlo, doveva chiamarsi Monte Silvia! Beh, adesso ti organizzi con una barcata di cettoni e trucche, 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 telefoni a tutte finché non trovi quella giusta, chiaro? Oh, animali! Ma cosa fate lì gessati con le mandibole? Ma non la vedi che mi è ancora incagliata con la vostra? Dove l'hai te piantata, mentone? Oh, a Gaffonaude, che corpa tua! Noi stiamo qua dal 3 agosto! Ma quale 3 agosto? Testa! Io dal 52 che pascolo qui! Oh, mare nostro, dai ordine al tuo sciangati a aiutarmi, a secondarmi nello sbarco, rapido! Oh, ma cambiate yogurt, che vecchio questo! Fattelo come questa! Oh! Bravo! Che faccio, signor? Ma non ti ho fila per niente! Questo è il momento magico della giornata, manna! Assettatele! Ma guarda questi proletari! Ma cosa fate voi qui a Monte Carlo? Ma voi dovete stare a Pietro a Ligure, testa! Mario! Marino! Ma quello lì non è? Dai, devi sbrogliarmi con me! Ma che Cristoforo! Ma che Cristoforo perla? Quello che viene sempre al ristorante, no? Ah sì, è l'Ambrogio Colombo, quello che non paga mai! Com'è da? Com'è da? Com'è da? Come va? Oh, fratelli Caramazo! Ma cosa fate qui? Anche voi in plancia, presenti all'appello, bravi! Eh, noi siamo qui per un business! Bisogna una mano? Ah, magari! Dai, fratelli Maior! Mettetevi sullo scafandro e aiutate il mio schiavo lì! Date giù a sbrogliarmi la matassa! Dai, dai, rapido, dai! Ciao! Eh, dai, diamo! Su, tieni qua! Dai, tagli una mano! Dai, diamo una mano, via! Oh, mamma! Oh, mamma! Porca! Ma potevi dirvelo che non ti trovai a tuo agio nell'elemento acquatico, non testa? Io scatenavo la mia ciurma! Beh, ma in questi giorni è un po' fuori di melone! Ah sì? Avrà vinto il casinolo! Senz'altro! Beh, comunque ragazzi, io ho prestato molto il gesto, eh! Allora, di modo, voi stasera avete degli impegni? Io no! Magino di fare qualche telefonata! Ma la cagava! Eh, è vero, può fare da casa mia! Venite in villa! È una vita che io vengo a mangiare da voi! Per una sera potete anche essere i miei ospiti! Grazie! Comunque, comunque, lo dico soprattutto a te, eh! Attenzione giù le mani del mio cuoco! Perché confronto lui, Gualtiero Marchesi is nothing!